Domenica c'è il big match e dobbiamo cercare tutti i costi di vincerla e di portarcela da nostra parte. Anche perché comunque abbiamo un pubblico fantastico e dobbiamo assolutamente vincere. Noi siamo la Tristina e domenica è la prova del 9. Insomma bisogna batterli e aprire assolutamente il campionato. Ovviamente la Gianna ha pareggiato con un fallo di mano clamoroso però non dobbiamo piangerci addosso come fanno altri e andare avanti. Se ci ricordiamo l'anno scorso il Pado ha vinto il campionato con 69 punti e il Pordinone ha 58. Vuol dire che stanno facendo un campionato molto interessante. Noi stiamo facendo di più anche. Sono loro che stanno facendo un campionato a sé. e noi ci arriviamo a ricordare che siamo secondi perché sembra che ogni volta che stiamo facendo male ma siamo secondi. Abbiamo Maracchi Davis che insomma rifa quasi concorrenza. Sette gol. Infatti ieri dopo il gol abbiamo dato un messaggio e ho detto basta segnare perché se no... perché comunque come centrocampista... sono i gol che a noi mancavano gli altri anni. Esatto. I gol dei centrocampisti perché anche Stefano ha fatto i suoi gol. Che tra l'altro dicevi tutti i gol particolarmente belli. Tutti belli, non c'è neanche una brutta. Se io vado a cercarmi i gol forse quello meno carino è stato con la Virtus Vecum. Ma tutti belli tra l'altro, tutti pesanti e per fortuna ce l'abbiamo noi e speriamo che continui. Però ovviamente io vorrei risuperarlo. Tu dici, è uno stimolo. Esatto. Però è un gran bel giocatore. Metteremo un biglietto a metà prezzo e questi signori in sedamento del primo tempo vengono il secondo e vedono la partita. Grazie a tutti.